si aggiunge un altro tassello all'infinita storia tra belen rodriguez e stefano de martino pochi giorni fa sono trapelati degli scatti che hanno mostrato che il conduttore campano è andato in aeroporto a prendere l'ex moglie di ritorno dall'uruguay dove si è concessa dei giorni di ferie assieme all'amica patrizia griffi dopo tutto lui è sempre il padre di santiago figlio avuto dalla rodriguez ndr è normale che due ex si vedano il ragionamento che hanno fatto i fan meno romantici quelli che considerano il ritorno di fiamma fantagora ora però emergono altri dettagli e altre paparazzate sulla showgirl argentina e sull'ex allievo di amici che spingono a pensare che davvero ci sia in corso una ricucitura sentimentale a ricostruire gli ultimi giorni della sudamericana e di stefano ci ha pensato il portale upse vale a dire la medesima agenzia stampa che ha beccato i due ex coniugi a malpensa il fatto che de martino abbia dato un passaggio a n è stato solo un gesto di galanteria di gentilezza nulla più nessun altro risvolto pare proprio di no a giudicare dalle nuove foto pubblicate da upse il napoletano e la 37 n argentina si starebbero frequentando di nuovo i due infatti hanno trascorso il weekend insieme prima però hanno cercato di disorientare i sempre vigili attenti paparazzi se questo è quello che hanno documentato i fotografi con tanto di scatti a riprova del fatto che l'ex coppia forse non è più ex nella prima istantanea qui sotto si vede belen anticipare i tempi spostandosi a casa di de martino che si è poi recato a prendere il figlio santiago patrizia griffini e la l'indomani mattina i fotografi si sono nuovamente appollaiati sotto l'abitazione milanese del campano intuendo che la rodriguez non è mai uscita dalla dimora di stefano insomma ha trascorso la notte con lui non solo sembra che abbia passato con l'ex marito anche tutto il giorno successivo la domenica soltanto una congettura no ci sarebbe la prova i paparazzi in serata vedono la modella lasciare la casa di de martino come se non bastasse a conferma del fatto che il feeling sia riesploso belen con i figli e l'amica patrizia griffini prima di rientrare a casa sua ha preso qualcosa dalla macchina di stefano certi amori non finiscono fanno dei giri immensi